Appassionati del mistero e delle emozioni intense. Oggi ci addentreremo in un capitolo avvincente della vita di Aloy Blasey. Un racconto che ha affascinato il pubblico per due decenni. Preparatevi perché la verità è pronta a emergere. Fate un gesto e iscrivetevi al nostro canale. Seguitemi in questo avvincente viaggio. L'anteprima del docufilm, in uscita su Netflix il 24 novembre, ci svela un lato di Aloy che ci era rimasto nascosto. Dopo due decenni di matrimonio con la leggenda del calcio Francesco Totti, la separazione ha generato chiacchiere e speculazioni. Blasey, con gli occhi lucidi, si apre su questa esperienza dolorosa, svelando una verità che nessuno si aspettava. Ma cosa ha spinto Ilari a condividere questo capitolo così personale? Volete davvero scoprire tutti i dettagli di una storia d'amore che ha catturato l'immaginazione di ognuno di noi? Nel trailer, Blasey ci offre un'anticipazione della sua verità, partendo dal primo incontro con Totti. Ho sposato Francesco Totti per amore, non per denaro, e lo dimostravo sempre mettendoci la faccia, sottolinea. Una dichiarazione che getta luce su aspetti della loro vita insieme che molti spettatori si chiedevano. Ora, prima di addentrarci nei dettagli, vi chiedo due cose. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere nessuna news su storie coinvolgenti come questa e lasciate un like se siete pronti a scoprire la verità insieme a noi. Il docufilm, ideato da Peppino Cera e Romina Ronchi, e diretto da Tommaso De Boni, sembra promettere uno sguardo approfondito sull'evoluzione della relazione, dalla fase iniziale fino alla dolorosa separazione. Blasey rivela che il cambiamento in Totti è diventato evidente durante una cena a gennaio, portando a un disastro emotivo. La domanda ora è, a chi dare credito, ai giornalisti o a mio marito? Voi cosa fareste se, dopo 20 anni, notaste un cambiamento così radicale nella persona che avete sposato? Condividete le vostre opinioni nei commenti, vogliamo sapere cosa pensate di questa situazione. In poche settimane, potremo finalmente immergerci nella storia di Blasey e Totti, scoprendo gli alti e bassi di una delle coppie più celebri dello spettacolo italiano. Non vediamo l'ora di condividere con voi questo viaggio emozionante. Ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere nemmeno un dettaglio di questa storia unica e lasciate un like se siete pronti per questa avventura con noi.